Buonasera a tutti carissimi cinefili e cinefile, ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, oggi voglio parlarvi non di un classico, ma poco ci manca. Voglio parlarvi di un film che è uscito quest'anno, ha vinto il Leone d'Oro a Venezia, è Roma, del regista messicano Alfonso Cuaron, che questo film è stato un po' il factotum perché ha curato il montaggio, la colonna sonora, sceneggiatura, fotografia, soggetto, coproduttore, quindi insomma veramente questo è un film estremamente personale, un film dove il regista credo abbia riversato tutta la sua storia personale, tutta la sua intimità e anche in un certo senso nostalgia. Farò qualche spoiler perché alcune scene le voglio ricordare nel dettaglio, però cercherò di non dire troppo, anche perché comunque questo è un film che non si può raccontare, è un film che vive di immagini, vive di inquadrature, vive di un'estetica semplicemente strepitosa, è un film che chiaramente è stato realizzato per poter essere goduto sul grande schermo. quindi c'è una certa contraddizione fra il cinema, o quantomeno la visione di un film al cinema e la visione invece di un film come questo a casa, appunto con Netflix, sul televisore o sul computer, insomma io l'ho visto da televisione, però capisco che questo è un film che per poterlo apprezzare appieno, come ha detto lo stesso regista, il luogo di miglior fruizione possibile di un film è il cinema, la sala cinematografica. e questo film è semplicemente straordinario, è un film che praticamente è privo di colonna sonora, non ci sono parti musicate, poche volte che noi la sentiamo la musica è una musica di ambiente, e quello che noi sentiamo sono i passi, i dialoghi, il respiro delle persone, i suoni della città che anch'essa è comunque protagonista, comunque molto presente all'interno della storia. Quello che conta sono appunto le immagini, non dico che sembra quasi di vedere un film muto perché comunque ci sono molti dialoghi, però la potenza espressiva di questo film veramente è quella tipica di un grandissimo film muto. Attraverso le vicende di Cleo, questa domestica che lavora presso una famiglia borghese della classe media, possiamo vedere città del Messico, questo quartiere Roma e le vicende storiche anche del Messico con la prospettiva diciamo ancora una volta degli ultimi, quindi seguendo la logica neorealista a cui sicuramente Cuaron ha attinto, certo lui ha dichiarato che non ha voluto fare un film dove ci fossero delle citazioni, in realtà qualche citazione c'è, per esempio la scena dei due astronauti è chiaramente a mio avviso un'autocitazione del film Gravity, però il modo di presentare la realtà, il modo in cui Cuaron presta attenzione nei confronti dei personaggi, soprattutto nei confronti del personaggio di Cleo sia per i suoi sentimenti che per la sua condizione sociale, ci fa chiaramente capire che il suo neorealismo chiaramente traspare, anche per come sono rappresentati i luoghi, per come vengono descritti, si vede chiaramente che il bisogno, la volontà di rendere autentico, di dare autenticità a ciò che noi vediamo in scena è una necessità, un bisogno fortissimo che traspare in ogni fotogramma, come viene rappresentata la città, come viene descritta la casa anche dove questa famiglia e la stessa Cleo stanno, le vicende personali e sicuramente emerge un punto di vista che non è del tutto distaccato, quello di Cuaron anche se non c'è una colonna sonora, quindi diciamo che la mancanza di musiche, di colonna sonora appunto non mette nelle condizioni lo spettatore di dover notare determinati punti, la pellicola è un flusso continuo e inesorabile, dal ritmo lento ma mai noioso, questo film è proprio la dimostrazione che la lentezza non è affatto sinonimo di noia e la mancanza di colonna sonora non porta il regista a sottolineare momenti drammatici, ci pensano le immagini, ci pensano le espressioni dell'attore, ci pensano le atmosfere, non è necessario utilizzare altri mezzi per far capire allo spettatore che questo è un momento drammatico, questo è un momento più disteso però per come viene trattato il personaggio di Cleo che è la protagonista di questo film dove le donne fanno veramente la parte diciamo delle leonesse o comunque la parte positiva di questa pellicola è affidata a loro, loro sono l'anima gentile di questo film e di questa realtà fatta anche di brutalità, fatta di abbandono, fatta di uomini che o per edonismo o per opportunismo abbandonano le donne, si spostano con altre ragazze oppure semplicemente seguono la propria strada che più delle volte è una strada miserabile sia dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista morale e politico perché questo film ha un significato politico straordinario e vediamo queste donne che appunto devono tirare avanti, devono portare avanti la famiglia, portare avanti la loro vita nonostante sono state abbandonate, sono sole, il film ha probabilmente il suo momento più significativo da questo punto di vista nella scena in cui la padrona di casa, Sofia, si rivolge a Cleo dicendo non importa quello che dicono gli altri, alla fine noi siamo sole e quindi è un film che da un certo punto di vista si può definire femminista e che ci mostra questa realtà dove la solidarietà ancora una volta riesce ad imporsi contro la cattiveria contro anche la mancanza di garanzie che ci sono per esempio da parte dello Stato è secondo me fondamentale il momento per questo messaggio, per questo aspetto della pellicola è fondamentale il momento in cui Cleo decide di parlare con la signora Sofia e teme che rivelando la propria gravidanza che questa la mandi via, che questa la licenzi quindi ci fa capire chiaramente Quaron che in mancanza di garanzie nei confronti di queste persone è chiaro che loro si rimettono alla buona volontà, al buon cuore del datore di lavoro siccome Sofia è un'altra donna che è stata lasciata dal marito entra in gioco la solidarietà e quindi lei non ha assolutamente intenzione di licenziarla anzi la porta in ospedale per fare le visite quindi il discorso che per esempio De Sica fa in Ladri di Biciclette lo troviamo anche in questo film un discorso che rimanda appunto alla questione della solidarietà la solidarietà salverà il mondo e stiamo parlando di un mondo, ripeto, fatto di brutture fatto di sporcizia, fatto di uomini, di maschi anzi che purtroppo rendono città del Messico e il mondo in generale un posto che non è proprio il massimo insomma dal punto di vista dei sentimenti, dei rapporti personali e chiaramente della vita per tutti quanti per tutte le persone, uomini e donne indistintamente è un mondo violento, è un mondo che calpesta le persone che le tratta come sterco, non è un caso che la scena che noi vediamo nel momento in cui il dottor Antonio che è poi quello che diventa l'ex marito di Sofia, quando arriva a casa noi vediamo che arriva con questa con questa galaxy una macchina piuttosto grande che a malapena riesce ad entrare in questo cortiletto barra garage dove appunto mettono la macchina e siccome il cane chiaramente defeca lascia gli escrementi per terra noi vediamo proprio a un certo punto la scena della ruota che passa sopra a questo pezzo di sterco e si capisce già dalla presentazione del personaggio di Antonio che non viene mostrato subito in volto ma vengono mostrate le sue mani diciamo le sue abitudini un fumatore i suoi tic diciamo e soprattutto che cosa fa lui con la macchina passa sopra alla merda perché? perché lui ad un certo punto calpesterà le persone come se fossero sterco ci passerà sopra ed è quello che succede effettivamente nel film a un certo punto Antonio decide di andarsene via di stare probabilmente con una donna più giovane e quella scena del cinema dove vediamo loro due che escono fuori e che corrono per la strada vicino ai figli e c'è il momento in cui uno un amico riconosce il signor Antonio e il figlio si rifiuta di dire che di ammettere che quello è suo padre quella è una scena che secondo me richiama molto i 400 colpi di Truffaut solo che qui i ruoli sono ribaltati nel film di Truffaut il bambino riconosceva la madre Fedifraga mentre invece in questo film cioè in Roma vediamo il padre in compagnia di un'altra donna e il figlio che si rifiuta di riconoscerlo diciamo che è una scena che può essere un po' come dire speculare poi tra l'altro in Roma abbiamo il padre che corre insieme a questa ragazza mentre invece nel film il figlio sta fermo mentre invece nel film di Truffaut abbiamo il figlio che sta camminando e la madre che invece è ferma con l'amante non so se Quaron ha pensato di fare una scena speculare in questo senso però io ci ho visto ci ho visto questo e mi piace tantissimo e il film poi è anche una critica tremenda nei confronti della società nei confronti del maschilismo nei confronti anche di una parte della storia del Messico perché il film si chiude o comunque va a chiudersi nell'estate del 1971 in un momento in cui c'erano ancora dei grossi fermenti politici proteste studentesche nei confronti del governo e tant'è che il momento in cui la la domestica la Cleo partorisce è il mi sembra 10 giugno del 1971 il giorno in cui ci fu il cosiddetto Alconaso cioè il massacro compiuto da parte di paramilitari Los Alconeros cioè i Falchi un gruppo paramilitare finanziato dalla CIA organizzato anche dal governo messicano eccetera che proprio in quell'occasione a città del Messico spararono contro gli studenti che protestarono e viene fuori che proprio il padre della 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 bambina che porta in Grembro Cleo è un affiliato degli Alconeros e insomma si capisce chiaramente lì c'è proprio la chiusura definitiva su questo personaggio negativissimo fissato con le arti marziali un delinquente comune che all'interno di questo di questo gruppo ha trovato diciamo la sua la sua motivazione il suo perché e e però insomma alla fine lui non è altro che insieme ad altri criminali e giusto lì poteva poteva andare un soggetto un soggetto come come quello però Cuaron ci dice che comunque gli uomini che abbandonano le donne e che si si muovono agiscono per il proprio esclusivo spasso non sono uomini soltanto poveri ignoranti che e violenti non sono soltanto sono anche gli uomini altolocati gli uomini che hanno studiato che hanno un'istruzione Antonio è un dottore eppure anche lui seguendo semplicemente la sua la sua libido alla fine decide di abbandonare la moglie e la numerosa famiglia quindi la critica in questo senso nei confronti dei maschi è trasversale assolutamente però nello specifico c'è la critica nei confronti della borghesia quindi nei confronti di Antonio e nei confronti anche dei proprietari terrieri perché c'è la scena del capodanno dove lì vediamo come questi come questi borghesi come come questi proprietari terrieri siano persone violente quasi per natura persone che sparano persone che assolutamente tengono al proprio status sociale ma in senso negativo cioè sono disposti ad uccidere pur di mantenerlo sono disposti a sottrarre la terra e la vita agli altri pur di mantenere il proprio rango sociale quindi anche qui c'è una critica mostruosa nei confronti di questo tipo di mentalità di quel tipo di classe sociale e dell'ideologia di cui sono portatori e di cui gli alconeros sono il braccio armato e quindi il film è una pellicola che si muove su tanti piani su tanti livelli e però insomma è di una bellezza straordinaria un film che a me non ha annoiato nemmeno per un istante bisogna sentirlo in lingua originale bisogna leggersi i sottotitoli perché ad un certo punto parlano anche nella nella lingua che è il mixteco cioè una lingua molto vicina a quella che veniva parlata dagli aztechi si parla in spagnolo quindi se non si sa lo spagnolo bisogna per forza leggersi i i sottotitoli però nonostante tutto il film riesce ad arrivare riesce a far sentire tutta la sua potenza espressiva e credo che veramente se si pensa che un film come questo possa essere fruito anche a casa anche sullo schermo del computer o su quello della televisione io credo che sia un ragionamento una valutazione assolutamente sbagliata totalmente fuori da ogni logica artistica secondo me questo è un film che doveva andare in tutti i cinema doveva essere distribuito ovunque non doveva pensarci solo la cineteca di Bologna a portare il film in alcune sale questo film doveva essere distribuito ovunque ovunque perché un'opera del genere è lo stesso discorso che io ho fatto anche per la ballata di Buster Scruggs questo film è talmente bello è talmente ben confezionato è girato chiaramente con una logica cinematografica e non da film tv che è un danno un danno che viene fatta alla settima arte non portare non portare un film come questo al cinema tant'è che all'interno di questo di questo film c'è chiaramente una scena dove Alfonso Cuaron omaggia il cinema omaggia la sala perché la ripresa che è forse forse quella forse non sarà la scena preferita mia ma è comunque una delle scene che preferisco del film lì abbiamo un campo lungo lunghissimo ed è tutto ambientato all'interno del cinema dove vediamo Cleo e come si chiama Fermin mi sembra quello che la mette in cinta e l'abbandona che si stanno baciando e lei poi gli confessa la gravidanza e lui se ne scappa abbiamo abbiamo una ripresa meravigliosa meravigliosa del cinema la macchina da presa è piazzata alle spalle dei due personaggi e abbiamo questa inquadratura che arriva fino in fondo allo schermo con questo campo lungo meraviglioso un cinema bellissimo e soprattutto li vediamo ancora una volta è un film è un film comico quello che stiamo proiettando non so quale sia ma proprio lì vediamo l'idea l'essenza del cinema il concetto stesso rappresentato in quella scena in quella inquadratura e ti fa capire qua Ron che il cinema è quello non è Netflix che ti dice guarda che c'è già disponibile sulla piattaforma non me ne frega nulla che è già disponibile sulla piattaforma io lo voglio vedere al cinema perché soprattutto film come questi hanno il loro luogo naturale di fruizione nella sala cinematografica punto quella scena di qua Ron mi comunica questo e a me piace questo film anche perché fa un discorso metacinematografico che sta tutto lì che sta tutto lì e non portare un film come il Roma al cinema è un danno è un delitto artistico usiamo questo questo termine un po' un po' così però secondo me rende bene l'idea è un delitto artistico perché Roma è un film talmente bello talmente straordinario talmente fantastico per me può essere già considerato un capolavoro per quello che mi riguarda perché dentro c'è di tutto dentro c'è dal punto di vista della capacità di raccontare una storia fortemente autobiografica in questa maniera per me Cuaron ci ha messo Fellini la capacità di raccontare con piglio quasi documentaristico con questo senso del reale nella quotidianità c'è il neorealismo di come si chiama di di Rossellini ma c'è anche la vicinanza nei confronti degli ultimi tipica tipica di De Sica o di Pasolini cioè gente gente che che attraverso le loro opere hanno comunicato dei messaggi che Cuaron ha fatto propri e le ha riproposto e ha riproposto questi messaggi queste tematiche questo sguardo tutto ciò lo ha riproposto in questa pellicola che è qualcosa di fantastico per me può già vincere l'Oscar con il miglior film in lingua straniera cioè proprio possono già chiudere ora le selezioni è qualcosa di straordinario e non portarlo al cinema è veramente un delitto un delitto poi il tutto è anche trattato con una delicatezza perché un'altra cosa favolosa che non ho detto a proposito del personaggio di Cleo che è interpretata com'è che si chiama l'attrice Aparissio Aparissio favolosa ma a parte su tutti bravi gli attori tutti però questa Aparissio è stata spero di pronunciarlo bene è stata strepitosa la cosa che mi è piaciuta molto anche in questo film è la delicatezza con cui Cuaron tratta il personaggio di Cleo perché dico che questo è un film che nonostante non ci sia la colonna sonora e quindi voglia in questo modo rimanere un po' distante però in realtà Cuaron è coinvolto nella narrazione di in questo film la narrazione della storia di questo film perché è coinvolto perché basta vedere come tratta il personaggio di Cleo il personaggio di Cleo oltre un certo limite non viene mostrato c'è pudicizia anche nel come viene trattato il personaggio di Fermin il bastardo che poi la lascia viene mostrato anche nudo completamente nudo tra l'altro in delle movenze piuttosto ridicole tra l'altro mentre invece il personaggio di Cleo non viene mai mostrata nuda e non perché c'è una visione bigotta no perché c'è rispetto il personaggio di Cleo viene trattato con rispetto e questa è una cosa che a me piace oltre ogni modo e fa capire con questa scelta con questa scelta ci fa capire il regista quanto ci sia di personale quanto lui in realtà sia legato effettivamente a questo film e alle vicende che sono dentro raccontate quindi questo è un film semplicemente ripeto straordinario se lo potete vedere al cinema guardatelo al cinema io invidio profondamente quelli che hanno potuto vederlo in sala perché questo è un film che deve essere visto in sala però purtroppo per quelli che non hanno avuto la possibilità si dovranno accontentare di vederselo magari a casa se qualcuno ti passa non so il file oppure se ti porta Netflix a casa se lo vai a vedere da qualcuno perché purtroppo non c'è la possibilità di vederlo al cinema ed è un grosso grosso peccato quindi c'è anche un po' di polemica da parte mia però mi dispiace ma di fronte a cose a film così belli che non arrivano che non arrivano nei cinema di tutta Italia veramente la cosa mi fa mi fa girare le palle quindi niente detto questo io vi vi saluto guardate Roma per favore guardatelo dall'inizio alla fine non state lì a dire ma che palle in bianco e nero non c'è questo discorso ok film in bianco e nero non significa nulla se è in bianco e nero o se è a colori film in bianco e nero chi se ne frega vuol dire che è una scelta stilistica fatta dal regista è una scelta estetica fatta dal regista fottetevi nel discorso eh ma bianco e nero allora vuol dire che è noioso no non dipende da quello non dipende da quello il film è lento non è un film d'azione ragazzi è un film lento ma non significa che sia noioso lentezza e noia sono due cose che non necessariamente stanno insieme e questo film è la dimostrazione chiara palese che noia e lentezza non sono sinonimi quindi guardatevelo gustatevelo godetevelo perché chi ama il cinema questo film veramente lo adorerà io già lo questo film proprio lo amo alla follia quindi niente detto questo io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video buona giornata a tutti ciao